ciao ragazzi nuovissimo video unboxing tornato da un elemento davvero stanco davvero stanchissimo faccio dei video unboxing con voi cosa c'è qui ragazzi pari a papà scusate al like sta combinando un macello pass 2013 per il bellissimo pc che mi sta facendo anzi norby sto aspettando te ok 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 ragazzi passi 2013 guardiamo mamma mia manuale bello spesso bello grande macchie ricordi quando i manuali contavano poi ho un v un ps league quando si facevano i donnei l'icona il gioco allora di nuovo comunque requisiti di sistema windows 7 inter pentium 2,4 giga un giga di ram 8 giga di spazio sul disco oggi forse me di e noi proprio alla grande superiamo tutti questi dettagli pro active ai portiere migliora pro evolution socio 2013 un giocone che ha fatto la storia che mi è piaciuto davvero tantissimo e noi ragazzi ci vediamo per quando ragazzi in un prossimo video bello ragazzi ciao ciao